Rissa e spari, intervento dei carabinieri nelle vicinanze di un pub tra Caltanissette e San Cataldo. Caporalato e lavoro nero, dieci arresti eseguiti dai poliziotti della Digos. La voce del movimento di volontariato italiano contro il caporalato. Tentato omicidio a Santa Barbara, ha condannato a quattro anni e sei mesi per un episodio risalente al dicembre 2019. Manto sintetico del Tomaselli, intervento della Missa Rugby sulle linee di delimitazione del campo polivalente. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Rissa all'esterno di un locale di San Cataldo. Sparati anche alcuni colpi di pistola. Indagano i carabinieri. Sono ancora parecchi i punti da chiarire su una rissa scatenatasi all'esterno dell'Airpub di San Cataldo, durante la quale sono stati sparati anche alcuni colpi di pistola. Bocche cucite da parte degli investigatori, ma da una prima ricostruzione sembra che un nutrito gruppo di persone sia venuto alle mani e a un certo punto qualcuno dei partecipanti abbia sparato dei colpi, probabilmente a scopo intimidatorio. Nessuno, infatti, sembra avere riportato ferite d'arma da fuoco. L'accaduto di giovedì sera è stato segnalato ai carabinieri che sono intervenuti rapidamente, ma quando i militari dell'arma sono arrivati sul posto non hanno trovato persone, rinvenendo soltanto alcuni bossoli di proiettile per terra. Gli accertamenti sono in corso e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni. Innanzitutto da capire quale sia stata la causa scatenante e adesso i militari stanno cercando di capire se nella zona siano presenti impianti di videosorveglianza che abbiano registrato l'accaduto per provare a identificare i responsabili. Caporalato e lavoro nero. Dieci arresti della Digos. Provvedimenti richiesti dalla procura di Caltanissetta. I particolari nel servizio. Braccianti agricoli stranieri impiegati nelle campagne della provincia nissena, pagati 4 euro l'ore e anche tassati perché sui loro salari dovevano gravare il costo del trasporto verso i luoghi di lavoro e la manutenzione dei veicoli. E anche turni di durata superiore a quella prevista dalla legge. Niente riposo, ferie e diritto alla malattia e a volte gli operai dovevano pure lavorare di domenica. Un quadro di sfruttamento quasi totale quello che emerge dall'inchiesta della Digos di Caltanissetta su un presunto giro di caporalato messo a nudo dagli investigatori della questura che stamattina hanno arrestato 10 persone, collocandone due in carcere e 8 agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Caltanissetta. I riflettori di magistrati investigatori si sono puntati principalmente sul gruppo di stranieri accusati di far parte di un'organizzazione che reclutava, secondo l'accusa, mano d'opera straniera, soprattutto marocchini, per sfruttarne l'impiego in campagna. Ma nel calderone dell'inchiesta ci sono anche proprietari terrieri e imprenditori agricoli delle province di Caltanissetta e Grigento, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in quanto avrebbero utilizzato, assunto e impiegato i braccianti stranieri reclutati dalla presunta organizzazione criminale, sottoponendoli continuamente a condizioni di lavoro lesive della dignità, della sicurezza e della salute, approfittando del loro stato di bisogno. E nel novero delle accuse non mancano nemmeno violazioni della normativa in materia di sicurezza, in quanto raramente i lavoratori indossavano i dispositivi di protezione. Discorso simile per il rispetto delle norme igieniche sui luoghi di lavoro, in particolare sui controlli sanitari per i conducenti dei camion, a cui si aggiungono presunte mancanze della revisione dei mezzi di trasporto e persino la sottoposizione a metodi di sorveglianza. Nel corso delle indagini della Digos è emerso che gli stranieri reclutati avrebbero percepito per una media di 8-9 ore di lavoro un salario di circa 30-35 euro per ogni giornata lavorativa. Ulteriormente è decurtato di circa 5-10 euro per la tassazione imposta dagli autisti. E poi controlli quasi a vista da parte dei presunti sfruttatori, sempre con la spada di Damocle della minaccia di non essere più impiegati qualora non avessero svolto ad arte il lavoro di volta in volta assegnato. Sono diversi gli episodi registrati in cui alcuni operai, nonostante avessero manifestato malesseri o serie necessità familiari durante la giornata lavorativa, sarebbero stati costretti a rimanere sul luogo di lavoro fino alla fine della giornata e a riprendere l'attività pena minacciata esplicitamente della perdita di ogni futura opportunità lavorativa. Non è la prima inchiesta sul caporalato che interessa il territorio nisseno. Due anni fa un'altra indagine aveva coinvolto un gruppo di pakistani, molti dei quali sono adesso sotto processo, e quella vicenda aveva registrato la tragica appendice dell'omicidio del giovane del Pakistan Adnan Siddique, colpevole di aver aiutato alcuni connazionali a denunciare lo sfruttamento subito. Sulla vicenda del caporalato sono intervenuti i rappresentanti del movimento di volontariato italiano. Parla il presidente Filippo Maritato. Del caporalato, quindi del sistema illecito di reclutamento per lavoratori agricoli stagionali sottopagati, sfruttati, le cui condizioni sono ben lontane da quanto prevede la legge per le tutele dei lavoratori agricoli, si torna a parlare ancora una volta a Caltanissetta, nel centro Sicilia. Chi sul territorio ha da due anni cercato di svolgere un'azione di sensibilizzazione sul tema è il Movi, che all'interno della Casa delle Culture del Volontariato ogni giugno, in ricordo di Adnan Siddique, svolge un incontro con istituzioni e cittadini. Proprio il Comitato Giustizia per Adnan nacque in modo spontaneo come risposta della città all'efferato omicidio del giovane operaio Tessile, che per aver aiutato i suoi connazionali a denunciare, fu assassinato in via San Cataldo a Caltanissetta. Senza dubbio è un risultato ottimale, ci può fare solamente felice a una risposta che ci conforta e praticamente dobbiamo dire un plauso grande alle forze dell'ordine, perché la Casa è stata sempre presente e si è occupata da tempo di questa realtà e senza dubbio noi siamo proprio la voce degli immigranti che subiscono di questa ingiustizia a tutti gli effetti. Noi ascoltiamo, sì, ci sono stati momenti particolari, infatti lo scorso 17 giugno abbiamo fatto il secondo anno della commemorazione di Adnan, proprio per tenere viva questa situazione e non solo, ma noi ascoltiamo ancora un po' le lamentele dei ragazzi che vengono cercati per questo tipo di attività, noi cerchiamo di contenere, ma non solo, noi siamo stati anche invitati in varie realtà dove ci hanno invitato proprio a parlare in altre province di questo caprolato. Quindi questo per dire che la Casa è sempre in prima linea su questo e lo dimostra il fatto che stiamo seguendo proprio tutti i passaggi del processo che si sta svolgendo a Cattanestetta e nell'Aula Bunger per il processo per l'uccisione di Adnan, perché la Casa di Cultura di Volontariato e il Movi in prima linea sono parte civile di questa battaglia. Il Movi ad oggi continua a seguire la vicenda ed è all'interno del programma Suprema Italia, sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi in marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate, tra cui la Sicilia. Tentato omicidio a Santa Barbara, condannato a quattro anni e sei mesi un pensionato per un episodio del 2019. Ha scelto di concordare la pena in appello a quattro anni e sei mesi un ottoagenario nisseno ritenuto responsabile del tentato omicidio di altre due persone, un uomo e una donna di Caltanissetta, alle quali dovrà anche versare il risarcimento danni che sarà deciso dal giudice civile. Le due persone offese si sono costituite parte civile con gli avvocati Ernesto Brivido e Massimo Nemola. Il giudice della Corte d'Appellano dunque ha colto la richiesta di concordato di pena avanzata dall'avvocato difensore Angela Bertolino. In primo grado, nel gennaio di quest'anno, l'imputato si era visto infliggere otto anni e sei mesi dal tribunale. Era il 31 dicembre 2019 quando l'anziano pensionato si presentò al villaggio Santa Barbara nella casa che aveva affittato ai due nisseni e cercò di sparare contro di loro utilizzando una pistola che fortunatamente si era inceppata. L'uomo aveva pure colpito l'inquilina alla testa con il calcio dell'arma. Poi era intervenuto l'uomo, il quale era riuscito a far perdere l'equilibrio all'aggressore spintonandolo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri e poi nel corso del processo, all'imputato era andato il sangue alla testa perché i due inquilini non avevano più pagato l'affitto da tempo. Il fatto si era verificato all'esterno dell'abitazione di Santa Barbara e la scena era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata nelle vicinanze. Sulle base delle immagini i militari dell'arma avevano ricostruito il fatto e la procura aveva poi deciso di procedere per tentato omicidio. L'ufficio del commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della regione siciliana ha concluso l'iter per affidare la progettazione dei lavori di messa in sicurezza dell'SP23, l'arteria stradale che collega Mussomeli a Caltanissetta. La gara è stata giudicata per un importo complessivo di poco più di 146 mila euro. L'incarico prevede anche le indagini geologiche su quattro tratti in frana, dove saranno effettuati i lavori finanziati dalla regione con 5 milioni di euro. Oltre alle indispensabili opere di consolidamento dovranno essere realizzati anche nuovi sistemi di reggimentazione delle acque piovane. Prevista anche la realizzazione di una campata di viadotto al chilometro 2 per circa 700 metri. Ciò consentirà di oltrepassare la frana più insidiosa. Verrà inoltre rifatta l'intera pavimentazione, saranno sistemate banchine e cunette e sostituito il guardrail. Da oltre dieci anni questa strada, meglio conosciuta come la Cordovese Valle, è tormentata da smottamenti. Corte d'Appello, cinque magistrati stranieri in visita per uno scambio di formazione e di idee con i colleghi locali, i particolari. Cinque magistrati stranieri sono in visita in questi giorni nel distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta, nel corso di un progetto di formazione e scambio di idee organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Rete Europea di Formazione in Materia di Giustizia. A Caltanissetta sono arrivati il presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello della città tedesca di Brema, Torstenbeck, la giudice Svetelina Mikhailova del Tribunale Penale di Sovia, capitale della Bulgaria, dalla Slovacchia la giudice Susana Singakova del Tribunale Civile di Cosice, dalla Lituania il giudice Vladimir Berezoski del Tribunale Penale della capitale Vilnius e dall'Estonia il giudice Fred Fisker del Tribunale Civile della Contea di Haryu. A fare gli onori di casa il presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi, il giudice del Tribunale Nisseno Simone Petralia, tutor per gli incontri che si svolgeranno a Caltanissetta e il funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo Barbara Maimone. Un'occasione utile per un confronto tra esperienze di lavoro e sistemi giudiziari diversi. I magistrati stranieri hanno considerato positivamente il processo telematico adottato per le cause civili e di lavoro e ritengono abbastanza veloce la giustizia penale italiana. Tra gli aspetti che hanno incuriosito i magistrati italiani, invece, è la possibilità per i giudici tedeschi ed estoni di poter anche scegliere il lavoro part-time in base alle esigenze. I magistrati stranieri resteranno in città fino alla fine del mese, tranne il tedesco Beck che è dovuto rientrare in Germania. Tra quest'ultimo, il presidente Vagliasindi, anche un cordiale scambio di doni. Situazione Covid, 32 positivi nel Nisseno. Sentiamo il servizio. Covid. I dati che riguardano Caltanissetta, divulgati dal consueto bollettino dell'ASP, vedono nelle ultime 24 ore 32 positivi al virus. Attualmente tutti i pazienti sono in isolamento domiciliare. 8 sono a Gela, 7 a Caltanissetta, 7 a San Cataldo, 3 a Serra di Falco, 2 a Mossomeli, 2 a Niscemi, 1 a Milena, 1 a Montedoro e 1 a Santa Caterina Villarmosa. Un paziente di San Cataldo è stato dimesso dalla degenza ordinaria, deceduto un paziente di Gela. I guariti in provincia sono 34, di cui 13 pazienti di Caltanissetta, 7 di Gela, 5 di Sommatino, 3 di Mossomeli, 3 di San Cataldo, 1 di Mazzarino, 1 di Riesi, 1 di Santa Caterina, Villarmosa. A livello regionale la Sicilia vede calare i suoi dati. Sono infatti 950 i nuovi casi ed il dato è sceso al 9,3% in base a quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute. A livello nazionale la curva epidemica si inverte e risale con un più 11% di casi in sette giorni. Tuttavia conforta il dato del calo dei decessi secondo i dati della Fondazione Gimbe riguardanti la seconda settimana di settembre. Manto sintetico dello stadio Tomaselli, intervento della Nissa Rugby sulle linee di delimitazione del campo polivalente. Problemi per il completamento della posa del nuovo manto erboso in erba sintetica dello stadio Marco Tomaselli, dovuti alla non conformità dell'intarsio delle linee di delimitazione dell'impianto, che dovrà ospitare incontri di calcio e rugby. Una situazione segnalata dalla dirigenza della Nissa Rugby e della quale si è interessato anche il presidente della federazione reggbistica italiana Marzio Innocenti, il quale ha anche contattato personalmente l'amministrazione comunale. Una situazione inaspettata, hanno affermato i vertici della Nissa Rugby, che ancora una volta pone l'impiantistica nissena al centro dei riflettori per delle inspiegabili anomalie. Non riusciamo a capire cosa stia accadendo. Abbiamo lavorato tantissimo per ottenere il finanziamento di quest'opera e siamo sorpresi. Dobbiamo capire cosa accadrà. Magari a breve, con la prosecuzione dei lavori, tutto potrebbe rientrare nella norma, cosa che tutti ci auguriamo. Nel frattempo, il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, ha sottolineato che la Commissione Impianti Federale, assistita dall'ufficio legale, segue con estrema attenzione nell'evolversi della vicenda per ottenere il rispetto del progetto e dunque una tracciatura del campo polivalente corrispondente al bando. Proseguono a ritmo serrato le operazioni di posa in opera dei moduli radio sui contatori per la telelettura dei consumi idrici. E' quanto fa sapere Caltacqua in una nota. Completati gli interventi nei comuni di Bonpensiere, Villalba e Montedoro. Analoghe operazioni al momento sono in fase avanzata anche nei comuni di Gele e Vallelunga. Da lunedì prossimo sarà la volta di Riesi, 4.600 le utenze interessate. La collocazione di questi moduli radio consentirà di effettuare letture quotidiane sia dei contatori idrici in uscita dai serbatoi comunali, sia di tutti i contatori idrici delle utenze con ricadute molto positive sul servizio reso agli utenti del territorio della provincia di Caltanissetta. Infatti, tra le varie opportunità che consentirà l'installazione di questi nuovi strumenti, ci sarà pure la possibile individuazione tempestiva di consumi anomali, causati da perdite interne all'impianto privato, oltre all'emissione di fatture periodiche aderenti al consumo reale. Alzheimer, giornata dedicata alla prevenzione. Il servizio. Riflettori puntati sull'Alzheimer nel mese di settembre, dedicato proprio al morbo che si manifesta con problemi di memoria e non solo. L'Associazione Familiare di Alzheimer di Caltanissetta organizza una giornata dedicata alla prevenzione sabato 24 settembre 2022. Dopo la partecipazione ai convegni svoltisi durante la settimana tra CEF Passi Ospedale e Santeria, l'Associazione si rivolge direttamente alla cittadinanza con la possibilità di effettuare dei test e parlare dunque di diagnosi precoce. È importantissimo fare prevenzione e soprattutto cercare di avere degli stili di vita corretti dall'alimentazione al movimento e anche a quelle che sono poi le stimolazioni a livello cognitivo. Tenere sempre la mente attiva è un modo anche per mantenersi più giovani e avere uno stile di vita migliore. La giornata di sabato è un invito che facciamo a tutta la cittadinanza ovviamente è una giornata di diagnosi precoce. Avremo a disposizione due psicologi, uno la mattina dalle 9 fino alle 12.30 e un'altra il dottore Salvatore Torregrossa la mattina e la dottoressa Alessandra Messana il pomeriggio dalle 16.30 fino alle 19. Diagnosi precoce dove in pratica questi psicologi faranno dei test a chi si vorrà sottoporre ovviamente al test e poi nel caso in cui ci fossero dei problemi o comunque delle situazioni che devono essere attenzionate ovviamente verranno rimandati ad esami diagnostici più approfonditi. Questi test verranno fatti presso i locali della Proloco di Caltanissetta e in Corso Umberto, sono quelli vicino al comune. L'associazione d'anni opera sul territorio stando accanto alle famiglie. Noi come associazione abbiamo sempre fatto sensibilizzazione e informazione, abbiamo sempre cercato di dare un supporto, un primo supporto alle famiglie soprattutto a livello informativo perché logicamente chi si trova davanti a una malattia, una patologia che include non solo l'Alzheimer ma anche diverse forme di demenza, la famiglia si trova ovviamente spiazzata e noi cerchiamo di indirizzarli verso quelli che sono i servizi del territorio che abbiamo qui a Caltanissetta. Qui infatti abbiamo un centro di urno ASP che è pubblico e che accoglie i pazienti nella prima fase della malattia. Bambini in ospedale, l'associazione incontra i cittadini. Con i loro cestini di peri i volontari Abbio saranno presenti anche a Caltanissetta così come avverrà in oltre 150 piazze italiane. Si celebra anche nella cittadina nissena in corso Vittorio Emanuele la giornata nazionale Abbio sabato 24 settembre. Un'occasione per parlare dell'attività che l'associazione in città dal 2014 come gruppo in tirocinio e poi diventata ente autonoma nel 2021 svolge nel reparto di pediatria del presidio ospedaliero Sant'Elia. Siamo lì semplicemente per rendere il periodo di degenza un po' più umano, un po' più a misura di bambino, cercando in qualche modo di rendere meno forte l'esperienza in ospedale. I bambini sono costretti in quel momento a ricevere delle cure, non possono dire no e la nostra presenza in qualche modo può supportarli se loro vogliono e possono dirci anche no. Diciamo che siamo le uniche figure alle quali possono dire no, noi non vogliamo giocare, no non vogliamo far nulla e anche questo è fondamentale per il loro benessere. Quindi cerchiamo di umanizzare, di dare qualcosa in più al reparto di pediatria che già è una bella eccellenza, i medici, gli infermieri, tutto il personale. Insieme cerchiamo in qualche modo di dare una mano, facciamo davvero sistema all'interno del reparto, investiamo molto in informazione proprio per garantire quella sicurezza, quella delicatezza, quello di entrare in punta di piedi il reparto e di collaborare con tutto il personale ma soprattutto di essere da supporto alle famiglie e di aiutare i bambini, di stare lì e giocare con loro. Per cui domani la giornata nazionale serve a dare supporto concreto alla nostra attività in reparto, abbiamo sostenitori storici però benvengano anche tutti gli altri. Sarà dunque un modo per far conoscere la realtà dell'associazione che non si è fermata neanche durante la pandemia. Grazie alla nostra presidentessa Kenza Villardita e a tutte le altre volontarie mi viene in mente in questo momento Teresa Giallongo che sono diciamo le due che più attivamente devo dire sono state caparbie e hanno portato il reparto, fatto avere il reparto, dei kit d'accoglienza che in qualche modo hanno, poi anche attraverso la nostra pagina Facebook siamo riusciti in qualche modo ad essere un po' presenti proponendo delle attività, qualcosa da fare. Provvidenza, il quartiere racconta la vita quotidiana in 23 scatti. Sentiamo i particolari. Verrà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18 nella piazzetta fuori dagli schemi nel quartiere Provvidenza la mostra fotografica Il quartiere racconta a cura di Andrea Francesco Paolillo. La Provvidenza è uno dei quartieri più antichi della città e verrà visionato dalla mostra di Paolillo in 23 scatti che raccontano la vita quotidiana in un miscuglio di colori e multietnicità che contraddistinguono da anni il vecchio quartiere degli zingari o furchi. Il quartiere della Provvidenza è uno dei quartieri più antichi della città e del protagonista della mostra. Il quartiere racconta la vita, la vita delle famiglie nissene che quotidianamente si incontrano con le famiglie di immigrati che vivono in questo quartiere in uno sfondo architettonico dove il vecchio e il nuovo si incontrano dando vita ai colori, colori che si mescolano nel quartiere. I colori che ho voluto mettere in risolto, in alcuni miei scatti fotografici. La mostra infatti si compone di 23 scatti, alcuni in bianco e nero e altri a colori e quindi ho voluto attenzionare molto il quartiere della Provvidenza che per diverso tempo è stato abbandonato ma oggi fortunatamente sta dando segnali di rinascita e di rigenerazione. Oggi esempio di convivenza multiculturale. La mostra inizia il 23 alle ore 18 con la mia inaugurazione e si concluderà il 30 di settembre. Ogni pomeriggio aprirò dalle 18 alle 21. Vie dei Tesori, vediamo quali sono gli appuntamenti del fine settimana a Caltanissetta. Ultimo weekend per le vie dei Tesori a Caltanissetta. Il 24 e 25 settembre infatti saranno le giornate conclusive della manifestazione svoltasi nella cittadina nissena grazie al supporto del Comune ad un gruppo di cittadini composto da Lice Bifarella, Luigi Garbato, Michele Mendoli e Calella, Aurelia Speziale e Pasquale Tornatore e al coinvolgimento di associazioni, enti, istituzioni ma anche privati. Secondo il programma saranno ancora visitabili il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.10, l'archivio del Liceo Classico e la Biblioteca Comunale, la Casa del Mutilato dalle 10 alle 12.40 e dalle 15 alle 17.40, la Casina dei Gesuiti sabato dalle 16.30 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.00. La Chiesa Santa Maria delle Grazie, Istituto Maddalena Calafato, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. La Cripta della Cattedrale dalle 10 alle 12.40 e dalle 17 alle 19.40. Il Museo Averna dalle 10 alle 12.40 e dalle 14.30 alle 16.30. Ancora il sabato dalle 10 alle 12.00 il Palazzo del Seminario Vescovile e il Museo Diocesano. Sosta visiva dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 il sabato, la domenica invece dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Spazio Pitta dalle 11 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 e infine la Villa Benintende a Saristi dalle ore 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.00. In totale erano 15 siti di inseni visitabili nei tre weekend e tra questi due erano di San Cataldo. Questo fine settimana ci sarà anche l'ultima esperienza con una visita all'ex miniera di Zolfo di Gabara e la passeggiata nel centro storico tra Pietre d'Inciampo, Chiesa della Providenza, Morales e Opere d'Arte nei Vicoli. Manifestazione Metti in moto il dono. Appuntamento a Caltanissetta per il 9 ottobre. Farà tappa anche a Caltanissetta Metti in moto il dono 2022. La manifestazione nazionale che il 9 ottobre coinvolgerà le città di Caltanissetta, Grigento e Gela permettere ai partecipanti di ammirare le bellezze monumentali, artistiche e paesaggistiche a bordo delle proprie moto e vespe lungo il percorso prescelto e allo stesso tempo sarà un momento dedicato alla sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue. Metti in moto il dono rientra tra le iniziative promosse dalla FIASA nazionale che già si è svolta in altre regioni d'Italia e che il 9 ottobre trova uno spazio nella nostra federata e insieme a quelle di Gela e di Agrigento. È un'iniziativa alla quale possono partecipare gratuitamente tutti coloro che possiedono una moto, una vespe insomma e il raduno si svolgerà alle ore 9 qui dinanzi alla nostra associazione di via della regione 64. I motociclisti faranno un piccolo raduno qua davanti e poi percorreranno le vie principali della nostra città per poi dirigersi nella sede di Agrigento dove si incontreranno insomma con le federate di Agrigento e di Gela e tutto ciò appunto serve a promuovere la donazione del sangue. L'attività della FIASA nissena procede con diverse iniziative per invitare la cittadinanza a donare. Siamo riusciti in questi mesi ad aumentare il nostro numero di donazioni e di nuovi donatori ma ovviamente facendo una valutazione a livello territoriale è chiaro che questa città potrebbe produrre potenzialmente tanti donatori per cui l'appello che facciamo è quello che chiunque rientri in un'età compresa tra i 18 e i 65 anni dia il proprio contributo. Borgopetili è tempo di bilanci dopo la festa. I particolari? E' tempo di bilanci per il Comitato Feste Associazione Pro Borgopetilia che si è occupato dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro a Borgopetilia insieme alla parrocchia guidata da padre Salvatore Lovetere appuntamenti che hanno attirato nel borgo tantissime persone da Caltanissetta e non solo. E' stato molto impegnativo ma per tutti perché ognuno di noi ci siamo spesi per questa festa a partire di organizzare il tutto, poi siamo partiti con la festa della ratura e lì c'è un grosso lavoro alle spalle e poi per le serate che abbiamo svolto il venerdì, sabato e domenica con grandissimo successo e su questo siamo veramente soddisfatti. E' stato veramente un successo, boom, perché Borgopetilia va a ricadere su una zona che copre Caltanissetta, Santa Caterina e allora la gente si è concentrata tanta lì, però per gli ospettacoli che c'erano l'hanno apprezzati, ecco, l'hanno apprezzati. I nostri sacrifici sono stati apprezzati dalla gente. Soddisfazione dunque per il comitato formato dal Presidente Rosario Gentile, Vicepresidente Massimo Di Cara, Tesoriere Lillo Di Gloria, Segretario Gianluca Punturo e dai componenti Gerardo Raso, Salvatore Bellomo, Luigi Dell'Utri, Salvatore Loiacono, Giuseppe Rizzo, Salvatore Gentile e Salvatore La Cagnina. Il gruppo di recente è stato rinnovato accogliendo tanti giovani. Ho sempre visto la festa senza poter dare il mio contributo. Io insieme agli altri ragazzi che insieme abbiamo formato il nuovo comitato, abbiamo fatto espressamente richiesta di far parte di questo gruppo e insieme abbiamo collaborato, insieme anche alla collaborazione delle nostre famiglie, per la riuscita della festa, perché alla fine Borgopetilia è la nostra casa, dove noi tanti abbiamo fatto battezzare i nostri figli, si sono celebrati i nostri matrimoni e pertanto la viviamo come una nostra seconda casa. Questo è stato lo spirito che ci ha spinto a dare il nostro contributo. L'arrivo di nuovi componenti è stato accolto favorevolmente anche da chi fa parte del comitato da tanto tempo. Ringraziare tutte le persone che hanno collaborato e ci hanno aiutato tanto. Ringraziamento a tutti questi nuovi giovani che hanno entrato, che a noi ci hanno rinforzato. E così credo che continueremo sempre a migliorarla. L'organizzazione della festa ha visto il coinvolgimento anche delle famiglie, la buona riuscita degli eventi, sprone il comitato a pensare al futuro e a nuovi appuntamenti. Pensiamo di andare avanti e nell'arco dell'anno fare pure delle altre sagre, qualche altra festa. Stiamo cercando di continuare. E passiamo allo sport, calcio. Domenica di riposo per le squadre nissene, sosta nei campionati di Serie D ed eccellenza. La San Cataldese tornerà in campo mercoledì 28 sul campo del Cittanova. I Verdi Amaranto intendono voltare pagina rispetto all'ultimo impegno tra le mure amiche. Brucia infatti ancora la sconfitta d'opera del Sant'Agata. La San Cataldese ha quota zero in classifica con Canicattì, Licata, San Luca, Paternò, Santa Maria, Cilento e Ragusa. Mercoledì il Canicattì ospiterà la Cirreale, mentre in Licata sarà Vibo Valencia. A caccia della prima vittoria anche la Nissa, che tornerà a giocare domenica 2 ottobre per la quarta giornata del campionato di eccellenza contro la Parmonval. I biancoscudati sono reduci dal pari casalingua a reti inviolate con l'oratorio San Ciro e Giorgio Di Marineo. Bene, per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. Previsione per la giornata di sabato, quando un guasto del tempo interesserà tutte le nostre regioni centrosettentrionali per l'arrivo da ovest di una perturbazione atlantica legata a questa più ampia zona depressionaria tra l'Inghilterra, la Francia e la Spagna. Mappa nuvolosità, i cieli che si chiuderanno al centro nord Italia, mentre più sole all'estremo sud. Lo zoom precipitazioni mediterraneo ci conferma di fatti una giornata piovosa su molte zone con anche dei rovesci dei temporali sul medio tirreno. In sintesi, la mappa dell'Italia, una giornata, come dicevamo, via via di maltempo al centro nord, ombrelli aperti, giacche a portata di mano, all'estremo sud invece sole e soprattutto clima estivo per il libeccio e lo scirocco. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Romano, Corso Vittorio Emanuele. Servizio notturno, Pantano, Via Don Minzoni.